ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri orologietti ho un'altra simpatica puntatella dedicata al vostro percorso in questo simpatico hobby come diceva il buon mike buongiorno e siamo qua a vedere a vedere le vostre raccolte di orologi cercare di imparare qualcosa di interessante a vedere orologi nuovi ed alimentare la scimmietta con delle noccioline virtuali perché queste sono virtuali e a lei non gli garbino le noccioline virtuali e le vuole reali quindi bisogna accaparrarsi al più presto qualche pezzo di ferro con le lancette gli ingranaggi possibilmente no poi se vi piacciono le batterie potete anche prenderli a batteria nessuno vi dice niente nessuno vi dice niente finché non me li mandate a me ecco se mi mandate il video vi chiedete il parere poi dopo io vi picchio perché non mi piacciono gli orologi a batteria però se voi ve li tenete per voi ci girate nella vita normale io non vi dico niente se voi mi venite a cercare io vi dico quanto penso ora l'orologio del giorno o è questo bellissimo longin spirit 40 mm di diametro cassa calibro l 888 certificato cosc è un orologino che ha una luminescenza veramente veramente ha vinto una volta ho fatto il video la battaglia della luminescenza lui ha battuto i diver più blasonati bravo bravo poi c'è la corona vita e 100 metri di impermeabilità è veramente l'orologio tutto fare proprio si può fare anche il bagno al mare volento va bene detto questo fate un po di pubblicità al mio amico longin al signor longin guardiamo i vostri video dai primo partiamo ciao davide ciao un saluto tutti gli amici del canale ti seguo da veramente tanti anni mi ha fatto appassionare questo mondo a me gli orologi sono sempre piaciuti va bene qui vedrai un po nella mia collezione un po di tutto vedrai un po di orologi regalati un po di quarzon regali di ex e via dicendo quindi sono pronto a ricevere qualche ciofechino allert e speriamo anche di ricevere qualche top va e via allora qui abbiamo un casio direi quazzo sportivo quazzo quindi non c'è molto da dire mi piace perché questo contrasto con l'arancione e il citturino nero e lo reputo molto versatile è un classico intramontante quindi è un caso da avere assolutamente in collezione c'è bellissimo pulsantino che fa illuminare il quadrante e qui abbiamo un mbc questo militar watch company anche questo un quarzon tu li vedi fermi perché hanno tutti la corona staccata bravo mi è piaciuto il quadrante il fatto che è piccolino niente di straordinario ma comunque fanno il loro fanno il loro ecco qui invece abbiamo il festina da cui è partita la mia diciamo passione ormai nel lontano 2010 forse 2009 un quarzon niente di che questo è un regalo per non so chissà quale natale su questo qua non mi soffermerei perché mi vergogno solamente a metterlo ma mi è piaciuto il fatto che è costato veramente poco e non ho resistito era lì in una vetrina in una gioielleria in un centro commerciale e così come tale rimarrà nella scatola mi soffermerei più che altro su questo swatch che invece è molto simpatico perché questo quadrante con questa pallina che simula la roulette è un quarzon è del 2002 edizione di james bond per il film ispirato al casino casino a questi altri allora da dove partiamo parliamo dal dai due gemelli casio questo mi è piaciuto un sacco per il quadrante color champagne e il gemellino per il quadrante e blu scuro con questo finto oro naturalmente su a questo gli ho cambiato il cinturino io ho messo un cinturino in pelle morellato ok questo qua invece l'ho lasciato così com'è sai benissimo ora questi due casi al quarzo di forma rettangolare io non ce li vedo ecco io l'orologio al quarzo a meno che non sia un orologio di pregio con un quarzo di pregio costoso e di marca no allora va bene uno può anche buttare soldi li per avere un tipo un cartier tank ma il la forma così rettangolare su un casio al quarzo io non ce la vedo per niente troppo classico troppo classi troppo classicheggiante proprio per il marchio casio ecco cosa voglio dire io caso li vedo come orologi al quarzo fa tutti i orologi al quarzo sportivi da usare tutti i giorni per l'avventura tutto quello che vuoi te no però non ce li vedo così eleganti rettangolari con scritto casio sopra il quarzo dentro eh no mi spiace che assomigliano a due orologi che che non sto a citare ok poi abbiamo un omega moon's watch ok questo l'edizione mercurio questo orologio che tu forse mi darai il ciofecale io lo adoro questo è un andon ok che è un marchio cinese che fa però orologi veramente fatti bene non è marchio cinese che farò oggi fatti bene fa fallo andone di hong kong e di hong kong ho recensito anch'io un orologio una volta sono fatti bene no perché non vedo perché devo dare un micro brand come ci sono micro brand italiani ci sono loro che sono di hong kong e fanno questi orologi questo qua sarà un quarzo vabbè fanno anche orologi automatici fanno orologi economici sì se uno se uno piacciono li prende non io non sentirei il bisogno di prendere un andon però sono fatti bene nulla da dire in particolari questo orologio ok è assolutamente personalizzabile è fatto incidere la logo apollo 11 gli ho fatto fare questa incisione a ore 6 delle lem dell'apollo 11 e sul retro come puoi vedere in questa foto ma no ma perché voglio ho fatto anche mettere il logo della missione dell'apollo 11 ecco questa è una cosa che invece io non non approvo cioè non non trovo corretta tu hai deciso di far scrivere appollo 11 il lem la missione per quale motivo perché andon è legata a quel quel evento lì no perché tea in qualche legame con quell'evento lì no c'è così per divertimento per gioco ci sta va bene però io non approvo cioè non lo vedo non ha senso ci poteva anche scrivere 24 ore di le man ma non ha senso uguale cioè piuttosto avrei fatto mettere un grattacielo di hong kong ecco fatto che siamo tutti contenti no e loro oggi mi dà veramente tante soddisfazioni anche questo cinturino che si che ricorda il colore degli astronauti passiamo ai vintage qui abbiamo due orologi anni 70 questo è un diamante un marchio che assolutamente non conosco diverse ricerche e ho scoperto che questo è un classico marchio micro brand svizzero che poi fa lì sono innamorato a parte la cassa cuscino il colore di questo quadrante ok segni del suo tempo è un anti shock quindi è un orologio comunque che fa il suo movimento a carica manuale certo e soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più è questo cinturino bracciale cinturino armadillo sono rimasto folgorato e naturalmente vetro plexi l'ho fatto lucidare tutto quanto e questo è il suo massimo splendore accendito c'ho feca o non c'ho feca mi piace perché c'ho feca quanto riguarda questo signorino qua è un garne tu direi ma che marchio è e me lo sono chiesto anch'io e solo che è stato morato come vista è un orologio delle delle fine anni 70 sono riuscito a capire parlando anche col venditore facendo diverse ricerche ecco ti metto gli screenshot di tutto quello che sono riuscito a capire di questo orologio e quindi a quanto pare ha avuto una collaborazione in passato con bulova e tiffany quindi a new york e questo brand ha resistito fino all'avvento del quarzo questo è quello che so bene proseguiamo partiamo subito da questo orologio qua allora questo è un orient e fine anni settanta non tre star mi sono innamorato del quadrante bello se questa lavorazione a cubetti mi è piaciuta veramente tanto tra l'altro in giro non ho visti altri fatti in questo modo qua la storia più carina di questo orologio è che il venditore era era bucarino e con l'arrivo dell'orologio mi ha regalato anche queste due calamite vedi in onore del del suo popolo che culo quindi anche una storia pressoché va bene diciamo così brammatica questo è un grandissimo ciofeca alert una cazzatina di amazon mi piaceva l'idea di questo accrocchio con le stelle il pianeta che gira quindi un bel ciofeca alert guarda qui come come suona in bomba ma mi piace a design insieme al fratellone pagani design allora questo accetto volentieri il ciofecale comunque pagani design è una ciofeca ma questo orologio qua è un meca quarzo mi piace tantissimo come meca quarzo tra l'altro gli addis dive sono veramente fatti bene è un 36 come fa essere un meca quarzo il meca quarzo è il cronografo il calibro cronografico viene definito così questo qua non è un meca quarzo cos'è non lo so io cos'è non so se meca quarzo al suo tempo esiste ma dai ma un pagani design che la copia spudorata del gmt tutto placato sarà pvd oro pvd oro ma come si fa a comparsi una roba del genere ma non ci avete vergogna cioè è regalato dei soldi a un'azienda cioè non è il fatto che ti sei consapevole che è una ciofeca però lo tieni il fatto è che ti hai dato dei soldi a qualcuno per aver fatto creato questa roba qua e te lo incentivi perché se qualcuno gli dei soldi lui dice vai allora facciamone ancora invece andrebbero completamente ignorati no ignorati in modo che fallissero perché a me nessuno mi toglie anzi non è che nessuno mi toglie cioè qualcuno ci sarà che fai falsi no se esistono gli orologi falsi ci sarà qualche fabbrica che costruisce gli orologi falsi con il marchio e che differenza c'è tra questo qua e uno con il quadrante con scritto rolex nessuna basta cambiare il quadrante quindi nessuno mi toglie dalla mente che le fabbriche che costruiscono questi homage uno per uno repliche uno a uno con scritto pagani design fanno anche gli orologi per il mercato fake e si spiega anche il fatto che costano poco questi tanto la loro fetta grossa è quella del mercato dei fake no vendiamo la gli orologi falsi e poi ci mettiamo per per motivi legali no per far vedere che l'azienda esiste ci scriviamo sopra un nome al quadrante e poi lo vendiamo a 100 euro no fatto benissimo perché poi dopo li faccio di là i soldi ho già dimostrato quella volta che ho fatto il ho trovato del corje il corje che fa le copie del black bay ho trovato su amazon fatto lo screenshot un corje quadrante scritto corje out e poi sulla corona c'era il logo di tudor si erano dimenticati di togliere la corona con scritto tudor prendiamo questo orologio è la copia spudorata del tudor black bay bronze pari pari lo distingue dall'essere un falso la mancanza dei loghi sul quadrante e sulla corona peccato però che basta andare su amazon e cercare questo modello eccolo qua venduto e spedito dal corje store quindi il negozio online ufficiale bene se prestiamo attenzione possiamo notare che si sono dimenticati di sostituire alcune foto in alcune si riesce a notare sulla corona il logo tudor non in tutte presumo sia stata una svista e io l'ho colta questa cosa è semplicemente scandalosa chiaramente dopo il mio video è scomparsa quella foto lì però ho trovato su un forum americano qualcuno che addirittura gli è arrivato il corje black bay 58 non era 58 black bay bronzo mi sembra con la corona marchiata tudor vuol dire che lì fanno anche falsi che corje fa anche fai capito e quindi perché vi dovete impiegare questa roba qua dargli dei soldi a queste aziende dimenticatevele i limiti il movimento meca quartz vh 31 vh 31 sembra un automatico va bene ed è un quarto bellissimo quadrante sabbia e anche questo vetro arrotondato ora il fatto che uno mi dice poi è un quarto che sembra automatico perché la lancetta ruota continuamente ma cioè io mi compro un orologio perché la lancetta ruota continuamente o perché so che dietro c'è qualcosa di particolare no perché se no allora voglio dire anche uno che sembra una donna sembra una donna però dopo c'è la lancetta sotto no cioè un orologio lo apprezzo perché è automatico perché è un tipo di calibro perché so che c'è non perché mi fa vedere che la lancetta gira continua allora no posso prendere anche il meca quartz vh 31 che non sapevo nemmeno esistesse a solo tempo meca quartz che non è un meca quartz probabilmente è un quarzo nel quale hanno hanno fatto che il motorino invece che andare a scatti va al ciclo continuo si può andare si può fare consuma più batteria poi passiamo sovogliamo il pagani e passiamo a questo posto che ho detto bello che dire gli ho cambiato il cinturino io ho messo questa maglia milanese bellissimo questo effetto ampolla il quadrante blu è spettacolare un anfibio è d'obbligo da avere in collezione e questo è un seco actus seco 5 actus del 1972 e praticamente è tenuto veramente maniera impeccabile sembra veramente un piccolo disco volante la cosa che mi piace è che questo cinturino non è il suo ovvero è sempre di un seco di quegli anni lì e quando il venditore mi ha fatto vedere due seco 5 actus io preferito questo a quello coevo perché il bracciale come non mi piaceva scelta tua scelta sono giuillino ora però mi devi spiegare no è no guarda qua cosa mi è capitato schiacciato per caso per fermare e mi torna fuori l'alfa l'alfa un altro marchio di quelli che fa copie di orologi con l'invita acciaio oro ma non si può andare avanti così ragazzi uno e 1 2 subito prima che tu parli ti stavo dicendo che cioè mi ha cronato tutto perché un bel seco 5 il vostro che sono veramente l'emblema della passione di chi vuole spendere poco e avere un orologico una personalità con una storia dietro con delle aziende dietro serie e poi tu mi ritorni qua su alfa invicta così a cipo di cane va bene sentiamo cosa c'è da dire qui abbiamo un invicta con movimento nh 35 seico e un alfa 1993 questo chiaramente un omage che dire gmt pepsi e ecco la coppiata poi passiamo a alfa poliuma bellissimo cefè caler che rimbomba e questo woodstock zambon acquistato tramite un link su instagram solo perché io sono un amante della della pittura giapponese adoro kusai e mi piaceva tantissimo questo quadrante stile vintage va bene ma allora comprare guardare dei soldi qua è sempre il solito discorso a dare dei soldi a delle persone che costruiscono qualcosa sfruttando la proprietà intellettuale di altri io non so questa qua è la famosa onda di kanagawa si dice così ragazzi speriamo è cioè avrà dei diritti d'autore no cioè si usa così a jambon ton ton pon pon così vabbè comunque d'era ciò feccato l'orologio con il ritratto della grande onda poi abbiamo questo tisso pr100 che ho acquistato in viaggio in svezia è un quazzone ma nel lontano 2013 2014 giù di lì mi è piaciuto e l'ho acquistato e per finire sperando di avere un top eccolo qua uno di tamburi rolex 16 610 ln come regalo di laurea e questo si commenta ora però a me mi vengono dei dubbi no perché io non c'è mi metti la lancetta dei minuti sopra la lente magnificatrice l'immagine non è per niente ben visibile quindi mi vengono dei dubbi che uno che si compra tutte le copie delle copie delle copie poi alla fine non mi venga fuori con un orologio falso no non lo so io non so non so riconoscerlo quindi te lo passo è va bene facciamo finta che sia tuo che sia vero io non so cosa dirti sinceramente se poi non è se poi è un falso va a qualificare la tua persona cioè il movimento calibro 3 1 3 5 e sono veramente innamorato di questo orologio lo metto poche volte sono in qualche occasione eccezionale è veramente veramente meraviglioso va bene niente io spero di averti strappato come a tutti gli amici del canale lasciandovi con questa ultima bombettina e niente davide continuo a seguirti mando un abbraccio a tutti e lo vlo lo sei perché non mi è piaciuto il tuo il tuo modo di collezionare sinceramente non lo comprendo perché vai da orologi interessanti anche ricercati in molti su del 2016 il seco actus orologi che devi studiarci un attimino o perlomeno che ti devono appassionati deve prendere a delle spudorate copie che non ha senso che esistano proprio che non in una collezione così specie io capisco uno alle prime armi si compra primo orologio si compra una copia del paul newman del detto una paul newman bello contento poi dopo si rende conto si ferma lì no e dice vabbè mettiamo da parte cominciamo a vedere cosa c'è in giro alla stessa cifra sono orologi che gli spaccano il deretano invece te ne comprate più di uno proprio li tieni anche tutti belli in fila a dire oh no so che la cioffecca come per mettere le mani avanti ma questo non ti salva dal fatto che ce le hai che le possiedi e soprattutto che gli hai dato i soldi poi alla luce di tutto questo percorso mi salti fuori con il rolex che ti hanno regalato alla laurea che ci sta che può essere legge tranquillamente ma dopo tutto questi discorsi qua mi viene il dubbio no che potrebbe anche non esserlo potresti essere qua per prenderci in giro però non lo voglio dire non lo voglio dire proprio io non sei perché non mi piace il sistema il sistema collezionistico che utilizza il percorso come dicono ai ai grande fratello il percorso il percorso non mi piace ok prossimo video ciao davide sono antonio di spagna ti mando un saluto spagna voy a mostrarti le ultime incorporazioni a mi colezione di reloge che ancora non hai visto in tuo canale mio chiaro hai visto di altri e niente spero che ti guste avanti il primo il primo è un Tissot mi piaccia i cronomi mi piaccia i cronomi è un Tissot mi piaccia i cronomi è un Tissot mi piaccia i cronomi è un piaccia il mio piaccia preferito di reloci il giorno di oggi è il cronomi del momento sinceramente sì è credo che è molto bello un reloci molto ben construito è certo ha avuto successo di corda manuale non è automatico e beh credo che sinceramente Tissot ha fatto un reloci fantastico sinceramente un reloci mi piace il estilo su estiloso eh bello molto bello su aire retro vintage è un reloci che personalmente mi piace molto molto anche a me poi con il secondo il Carrera 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 il Trasera vista il 7750 il 7751 a uno si per molto che lo chiamen calibre 16 è un 7750 si e un altro reloci che che mi piace è un reloci me encanta con un aerodeportivo molto bello molto bello molto bello mi gustano i ho sento i ho visto i ora il terzo reloci non è un crono credo che va a essere il unico che deve a enseñar che non è un crono è un reloci di tre agujas un Seiko Seiko e è il nuovo il nuovo Seiko Presage Presage che la verdad che chapò chapò per Seiko perché ha fatto un reloci espectacular vediamo con il il nuovo Seiko Presage si però amico Antonio amico di Spagna non puoi dire Presage perché almeno diamo atto agli amici francesi nella loro lingua no Presage come dice in spagnolo non è tanto bello un bel quadrante un quadrante che ora volendo essere un pochino così ricorda un pochino il granseico no va a riprendere vuole riprendere naturalmente con tutti i limiti del caso del budget del costo e della qualità però è bello anche se bianco su bianco però elegante tiene una caratura spettacolare spettacolare che simula la seda la seda bello granuloso bello bracciale il brazalete è molto comodo è un brazalete molto bonito molto elegante molto comodo molto bonito e il nuovo molto bello c'è il cerchio trasero a vista a vista un Seiko 6r55 6r55 e un relozzo lo avevo poco è una delle mie ultime comprate e credo che qui seiko ha fatto un buon lavoro un buon lavoro il nuovo Presage il nuovo presazzo bene, andiamo con un altro crono crono, vai, amico Antonio in questo caso è un Longines Longines un Longines Conques Classic un crono con 3 subesferas il cambio di ora a 8 un po' anonimo a 4.30 a 8.00 un po' anonimo 77.53 però Antonio pronto è un crono con rueda di pilare la rueda di pilare la rueda di pilare e la vera è una meraviglia è una meraviglia che è classic cronografico con rueda di pilare e la vera è molto molto contento con il molto molto è bello Antonio è una meraviglia è una meraviglia è una meraviglia del Longines Master Collection Master Collection e ha cronografo ecco ecco questo qua è uno di quei Longines io sono un amante lo sapete più che amante direi estimatore però questi Master Collection con il quadrante pieno fasi lunare giorno con questa foggia classica non è che mi garbino tanto 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 neppure il cronografo di prima a dire la verità ho i miei limiti se un Longines non mi piace lo devo dire amici di Longines non vi offendete ma salve calendario completo dia del mes 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 dia della semana dia della semana ahi come veis calendario pointer pointer yes tiene la secundera a 9 con un indicatore di 24 horas eh complicatino eh bello si dai fase lunare fase lunare indispensabile e credo che è una meraviglia una meraviglia molto bello eh non so dentro di Longines credo che è un reloz espectacular credo che è un reloz che non so ha alcuni alcuni complicazioni che lo facendo sinceramente è un reloz di colezione non mi extrai che Longines le posesse master collection master collection master collection bravo si es que nada este es el ultimo que te quería mostrar bravo ya te dije una vez en un video soy apasionado de de Longines yes es una marca che me encanta e bueno credo che a ti anche te gusta algo Longines bueno ya para despedire il video te voy a enseñar mi caja Longines ah ahi tienes Legend Diver el Legend Diver en bronce Ultra Chrome bravo Zulu Time Zulu Time Zulu Time Rekord Heritage Rekord Heritage Costa Conquest Classic bravo muchas gracias Davide por todo espero que publiques el video eh si y nada te mando un saludo un abrazo y nos vemos pronto saludos a todos los compañeros del canal gracias por vuestra atención y ser felices eh si e tagliata no si sa come mai va bene dai Antonio un caro saluto salutami tutti i cugini spagnoli eh ti do un bel sette e mezzo un sette e mezzo sette e mezzo un mezzo punto in più te lo do perché ho visto alla fine una serie una sbrancata di Longines che mi ha aperto il cuore no che bello e il record che costa dei soldi è bello spesso il record eh il cronografo e poi quei cinque cronografi quattro cronografi che ci hai fatto vedere prima insieme a Seco Presage un bel sette e mezzo te lo merito di tutto e grazie per seguirmi dalla Spagna e invito tutti gli amici spagnoli perché il muy bonito is the new molto bello hai capito muy bonito muy bonito fai suos fai suos bella belli orologi non ho nulla da dire all'amico Antonio mandami ancora altri video che mi fa piacere ciao Davide ciao sono Gabriele da Modena Modena ti volevo fare i complimenti per il canale sia da parte mia che da parte di mia moglie Nicole che anche lei si è appassionata all'orologeria e agli orologi infatti me ne ha regalati alcuni che adesso ti farò vedere ti faccio vedere la mia collezione brava Nicole il primo è la controproposta di matrimonio che mi ha fatto due anni ormai e mezzo fa mia moglie questo festina automatic tanta roba con ghiera verde scuro verde bottiglia molto carino e che io tuttora indosso volentieri volentieri con piacere poi ti faccio vedere un altro regalo sempre di mia moglie che è questo citizen che non si vede quasi mai b620 con tecnologia eco drive 45 mm di diametro cassa e anche questo qui è molto sportivo particolare al cinturino in cauciù meno male si vede poco poi ti faccio vedere un orologio che ho visto dal tuo canale questo expedition che ho scelto con cinturino in pelle nera tecnologia indiglo indiglo bello pancetta dei secondi arancione anche questo qua diciamo minima spesa massima resa poi ti faccio vedere un citizen Tsuyosa ci sta giallo tuorlo perché a me piaceva questa colorazione qui anche questo qui 40 mm di diametro cassa monta un movimento miotto 802 10 il quadrante inutile dirlo è super estivo con questo giallo giallo tuorlo tuorlo con la bronzatura sta benissimo con la bronzatura sta benissimo poi ti faccio vedere un altro orologio che mi ha regalato mia moglie che a quadrante secondo me il più bello non si è mai visto sul canale è Promaster Unite with blue versione 7000 pezzi versione limitata per gli oceani guardate che quadrante che ha sembra di vedere il pelo dell'acqua del mare da sotto da sott'acqua è veramente stupendo anche questo con tecnologia eco drive bello con il suo cinturino in gomma veramente bello si fa su poi ti faccio vedere un altro diver Orient Mako Orient Mako 2 con Ghiera Pepsi Quadrante Blue Soleil dimensione direi 41 e mezzo 42 dichiarati dalla casa ho lasciato il suo bracciale perché ho fatto delle prove anche con altri bracciali però secondo me il suo bracciale non è neanche così brutto ho fatto male quindi sinceramente mi ci sono trovato bene e ho pensato di lasciarglielo ma sì poi ti faccio vedere i miei quattro pezzi un po' più particolari uno è un orologio che piace solo a me a mia moglie non piace a me piace moltissimo è questo Vostok Amphibia Classic con cassa a cuscino vetro bombato in plexiglass io gli ho cambiato il cinturino perché il suo è nero di pelle a me piaceva molto di più questo sta bene bravo con le punzonature il tessuto secondo me è veramente il suo cinturino molto bello anche questo qua con movimento sempre della Vostok automatico 2414 poi ti faccio vedere un orologio del 1988 che mi ha lasciato mio zio bello questo Seiko Quart Chronograph 37mm ti dico che questo è uno dei miei orologi preferiti quando lo metto è come non averlo al polso il tra il bracciale la qualità costruttiva il peso cioè sembra io non lo so sembra di non averlo veramente di non averlo neanche in mano quando se lo sto presentando è veramente incredibile questo è un orologio che mi piace moltissimo e niente cronografo anche questo qua veramente veramente stupendo stupendo ci sta carino ti faccio vedere gli ultimi due pezzi ah vai gli ultimi due pezzi sono uno un regalo che ho avuto da poco da mia moglie l'ultimo Baltic bello acquascape promosso blu notte blu quadrante blu soleil ma è un blu che veramente ricorda il mare profondo veramente bello mi piacciono molto gli indici di questo colore giallo un po' stile invecchiato un ocra un comunque molto bello birraciale chicchi di riso 120 schiatti scatti della ghiera eh sì e diametro cassa 39 mm anche questo qua veramente un pezzo veramente veramente bello ci sta ora ti faccio vedere l'ultimo l'ultimo è un sempre un lascito di mio dio forse il mio orologio preferito il mio orologio diciamo il mio orologio brightly cronomat acciaio e oro vetro antiriflesso è veramente non so come definirlo questo orologio perché non è bello non è stupendo non è lascio a voi lascio a voi descriverlo poi con questa complicazione della ghiera in oro 18 carati così veramente quando ti capita un orologio così tra le mani capisci allora questo qua non mi fa impazzire non mi fa impazzire perché acciaio e oro quadrante bianco e soprattutto Vitesse questo qua è il modello Vitesse quello con i numeri arabi inclinati a dare l'idea della velocità ok è così che nasce non mi fa impazzire preferisco quello senza numeri numeri arabi quadrante blu e i contatori a contrasto color oro ecco allora sì questo qua non lo comprerei io se e poi il bracciale questo qua è uno dei bracciali originali del cronomat però quello a cartucera no è leggerissimamente più appetibile almeno per me però è un bello orologio non è un euro massiccio mi sa è un euro camiciato la differenza tra questi e quelli di fascia insomma più bassa di prezzo insomma comunque è veramente un orologio incredibile con questo brightly cronomat movimento va giù 7750 non l'avevo detto diametro cassa 40 mm e mezzo si è scritto le cose ti saluto e auguro a tutti una buona serata è love è love ci voleva tanto a dirlo oh bravo ti do un 6,5 guarda un 6,5 soprattutto per gli ultimi due orologi il Baltic che bello orologio e il cronomat che è un bello orologio gli altri non me li ricordo più nemmeno niente tutti i quartzoni il Soyosa l'orientino il Vostok si un bel 6,5 te lo sei meritato ripeto hai anche il Vostok lì Amphibia che è un bello orologio che mi piace economico tutto quello che vuoi l'orient maco 2 però gli ultimi due pezzi il Baltic con il bracciale a chicchi di riso e il cronomat sono quelli che spiccano un po' nella tua collezione per il resto il primo festino è dimenticabile il regalo della signora Nicole cosa mi combini avresti bisogno di una lezione di come regalare gli orologi agli altri lezione che io ovviamente concedo privatamente e sono aperte le iscrizioni prossimo video ciao Davide ciao vincenzo ho 37 anni e vivo a Bologna bologna la mia piccola raccolta di orologi che inizia a 30 anni quando i miei amici in maniera piuttosto incauta date le conseguenze mi regalano questo swatch Batman facendo parte di una collezione di quattro orologi dedicati a personaggi di fantasia tra cui Pinocchio lo stregatto eccetera e conoscendo la mia passione per i fumetti mi regalano questo orologio ho capito apporta i colori stilizzati del logo di Batman ho capito ho capito sempre a tema fumetti in seguito acquisto questo orologio di cortomaltese sempre dalla swatch un'edizione limitata il cinturino non è il suo lo sto preservando dall'utilizzo è molto molto carino molto carino un Edgar Allan Poe trovato in un mercatino ad una cifra irrisoria ma mi piaceva mi piace lo scrittore mi piaceva l'orologio per cui l'ho comprato e ogni tanto lo indosso certo che si può andare all'infinito con gli swatch tra tutte le collaborazioni dediche orologi dedicati a questo a quell'altro fumetti film cioè la collezione è infinita cioè non si finisce più basta mettere mezzo volto di qualcuno e diventa la cosa stilizzata di quell'altro e diventa boom e non poteva mancare uno swatch crono che mi piaceva nella sua linea essenziale come secondo passo acquisto due Casio in tempi diversi un G-Shock il GA 2100 con colorazione arancione mi piaceva l'idea di poterlo usare a pesca o in montagna eccetera e questo orologio che fa parte della linea Casio Vintage che è un rifacimento di un orologio che abbiamo visto nel film Alien indossato da Sigourney Weaver però ovviamente è una rivisitazione molto più indossabile rispetto a quello che era tutto cyberpunk cyberpunk inizio ad interessarmi ovviamente all'orologeria al mondo dell'orologeria e ai meccanici e gli automatici per cui acquisto ad una cifra davvero ridicola su Vinted questo Citizen automatico molto carino con una colorazione particolare questo quadrante veramente interessante lo indosso spesso non è particolarmente impegnativo dal cassetto di mio padre recupero questo pacchetta il classico orologio che si acquistava sulle bancarelle dei mercati o dei mercatini fa il suo è un po' grandino per il mio polso però lo indosso volentieri anche solo per il legame affettivo nei confronti di mio padre e cominciò a pensare di comprare degli orologi di insomma più recente produzione di marchi più blasonati per cui compro questo Seiko 5 Field Watch fondo verde nasce con il suo cinturino nato ma io glielo ho cambiato gli ho messo questo nero che me lo rende un po' più versatile e indossabile e avrei voluto un Hamilton Kaki perché ce l'ha un mio amico ed è veramente bellissimo ma il budget non me lo permetteva un giorno un giorno tu potrai in seguito la mia fidanzata mi regala data la scimmia che mi era presa per gli orologi anche sul consiglio tuo questo orient cavoli bello questo tristar tobacco ma guarda com'è bello che è un orologio visivamente bellissimo orient è un marchio che mi piace molto e questo me lo guardano tutti avevo ragione io questo orologio qua l'ho scoperto posso vantarmi di averlo scoperto costava poco più di 100 euro a volte 96 l'ho fatto la recensione è andata a ruba l'ha comprato quindi è finito non c'è più quindi chi ce l'ha se lo tenga perché non perché ha valore ma perché è un bello orologio a quel prezzo lì a quello avete pagato ora sicuramente lo metterebbero 2-300 euro 96 100 euro guarda lì che bello orologio è un orologio che fa veramente la sua figura elegante figo avrei voluto un diver per cui mi comincio ad informare sui vari diver alla fine la scelta di cade sul classico dei classici bravo si ti sembra master praticamente l'icona del diver economico potevi prendere un Pagani design gli ho cambiato il cinturino anche a questo gli ho messo uno un po' più sottile veste decisamente meglio ma la vera scimmia io l'ho avuta per il Tissot Powermatic 80 che purtroppo nella dimensione dei 40 mm mi risultava troppo grosso e non mi piaceva nel momento in cui è uscito il 35 mm ho venduto tutto l'oro di quando ero piccolo nei vari battesimi e comunioni inutilizzati ma non ci credo e con una parte di questo ha venduto l'oro sono riuscito a comprarmi questo Tissot con la sua ha venduto tutto l'oro dei battesimi delle comunioni tenete conto lì è stata la scimmia è stata la scimmia sulla spalla che ha visto l'orologio no? le noccioline sono diventate due poi ha dato uno sguardo nei cassetti con l'oro vecchio ti ha fatto così quello lì non serve buttalo via buttalo via vendilo capito? e te vendi l'oro per comprarti il Tissot col powermatico 80 la passione cosa fa fare? l'orazione blu ed è davvero bello io lo indosso spesso mi piace molto ed è proprio la mia conquista personale bravo ognuno ha le sue ovviamente ti va dato atto che hai fatto bene e diciamo che il l'orologio a cui sono più affezionato però sono questi tre che sono degli Shanghai Watch Shanghai Watch io non conoscevo il brand questi orologi li ho trovati su un sito di e-commerce tra l'altro per il quale lavoro e mi piaceva questo qui con con il quadrante rosso che brutto e l'ho comprato ad una cifra davvero ridicola perché erano in svendita quando è arrivato innanzitutto ho scoperto che era meccanico perché in descrizione non ce l'ha scritto ma soprattutto fa parte di una collezione di cinque orologi e purtroppo gli altri due non sono riuscito a recuperarli che erano di colorazione rosa e di colorazione verde ci vogliono e queste colorazioni corrispondono a una descrizione sul fondello di quel colore in un particolare luogo della Cina ad un determinato orario mi spiego meglio questo rosso in particolare qui ci sono le coordinate geografiche scusami qui ci sono le coordinate geografiche del luogo preciso in cui si trova il palazzo dell'opera di Pechino è l'orario quindi le 8 pm in cui possiamo vedere la colorazione rossa al crepuscolo qui in ideogrammi cinesi c'è scritto mezzogiorno le tre questi orologi qua io li approvo ecco io quando io se io allora che recensiti mi sembra del marchio Shanghai è un orologio l'ho recensito io i marchi cinesi che reputo validi da acquistare sono quelli che propongono qualcosa di personale che orgogliosamente sul quadrante ti mettono gli ideogrammi ti vanno a puntare come obiettivo i colori che si trovano nel loro territorio una forma insomma non è niente di particolare come cassa però che non va ad emulare spudolatamente qualcun altro ben vengano gli orologi cinesi questo tipo qua ben vengano quello che io abborro sono le aziende che possono essere cinesi o italiane o americane che fanno copie uno a uno degli orologi quello non è che le fanno solo in Cina tre le sei e le nove mi piaceva l'idea che la Shanghai Watch producesse orologi popolari si un po' come la Swatch dei tempi nostri nella sua storia c'è scritto che l'uomo cinese il lavoratore cinese doveva possedere tre cose nella vita la bicicletta la radio e uno Shanghai Watch quest'idea di orologio popolare mi ha particolarmente interessato per cui sono legato a questi orologi per la storia e anche per l'idea che portano dietro questo qui per esempio è la sleepless night quindi notte insonne di Shanghai a mezzanotte precisa e qui ci sono le coordinate geografiche è il nero è il nero per vedere questa colorazione di blu questo invece è l'Everest quindi Blue Eyed Morning Everest Himalaya alle 10 di mattina e le coordinate geografiche per trovare esattamente questa colorazione bravo e so che non sono orologi particolarmente blasonati dal punto di vista meccanico non lo so non sono un esperto però insomma Shanghai Watch è una marca un marchio con la propria storia questi orologi hanno un'idea secondo me molto originale oltre ad essere veramente molto carini sono piccoli sono versatili vestono bene al polso le tre colorazioni mi permettono di utilizzarli in varie occasioni e a questi sono ripeto particolarmente affezionato bravo detto ciò grazie di tutto grazie a te continuo così e grazie per i tuoi video sempre molto illuminanti grazie è una collezione praticamente che è improntata più sulla sulla essenzialità l'orologio di punta diciamo che è il il Tissot PRX da 35 mm poi c'è un bellissimo Citizen Pro Master c'hai tanti Swatch l'Orient è quello Tobacco bello e questi ultimi tre mezzo punto te lo do solo per questi ultimi tre orologi qua e l'idea che hai avuto il concetto che c'è dietro l'acquisto e mi piace te lo appoggio come si può dire quindi do un sette sarebbe un sei e mezzo perché insomma collezione abbastanza di orologi visti e rivisti però un sei e mezzo comunque sette con questo con questi ultimi tre orologi che mi hanno mi hanno convinto cioè mi ha convinto anche il il tuo modo di ragionare e di volerli avere e lo comprendo ti mancano quegli altri due quadranti ora devi fare devi la scimmietta lì vuole gli altri due quadranti perché se no non è completa la collezione cioè ti metti a collezionare gli swatch no bidim 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 e questi qua che sono cinque invece che essere infiniti sono cinque e te ne mancano due e stai con le mani in mano incominciare ad andare su marketplace a cercare gli ultimi due pezzi per mettere in collezione altrimenti la scimmietta può morire di inedia andate a cercare cos'è inedia su google perché io non ve lo spiego prossimo video ciao davide ciao sono jacopo vado a mostrarti la mia piccola collezione e da circa un anno che mi sono affacciato e appassionato all'orologeria meccanica ecco qua il primo orologio è questo Tudor Black Bay la versione con la cassa in bronzo la scelta è caduta su questa versione proprio perché sin da subito mi ha affascinato l'idea della mutevolezza della cassa e devo dirti che effettivamente dopo un anno di utilizzo apprezzo le sue continue sfumature in origine aveva un cinturino in pelle ho cercato su internet ho trovato un'azienda che fa cinturini per tutti i modelli di Tudor e devo dirti che secondo me il risultato finale è ottimale e questo è il primo poi passiamo al secondo eccolo qua questo è un un Breitling top un cronomat orologio iconico è stato un regalo diciamo pure di mio suocero ma un regalo a metà in quanto in origine quando mi è stato donato era rotto non funzionava minimamente l'ho mandato alla Breitling è tornato un po' di pacca ho cambiato il quadrante l'hanno cambiato il movimento è stato lucidato ho sostituito anche il cinturino con un cinturino Breitling in pelle orologio che trovo elegantissimo che indosso appunto non tantissimo più che altro perché non ho così tante occasioni un po' barocco eh per cui poter sfoggiare questa icona anni diciamo pure 90 ecco yes poi poi altro orologio regalo che mi sono fatto per i miei 40 anni eccolo qua top Breitling Super Ocean Heritage Heritage la versione diametro cassa 46 cm bravo orologio sicuramente che al polso si fa notare io ho un polso da 18 e mezzo a volte vedete a volte io quando magari vado in negozio e vedo la versione da 46 cm di un modello no la snobbo dicono oh ma sto qua vedrai che farai fatica a venderlo eh e invece io tendo a ragionare per il mio gusto no per il mio gusto quando invece c'è c'è un ventaglio di di persone che ha gusti differenti va sul 46 cm va sui colori differenti va sui modelli ognuno tende un po' a ragionare per conto proprio no come se fosse la verità assoluta quando in realtà ognuno poi guarda 46 cm fa piacere fa piacere quando vedo queste scelte qua fa piacere perché dico meno male c'è anche persone che la pensano diversamente da me se no ed è secondo me proporzionato per il mio polso appunto orologio che trovo originale non si vede tanto in giro elegante sportivo allo stesso tempo si distoglie un po' dagli altri ha ovviamente un gusto un po' vintage ho usato la scusa dei 40 anni per farmi un regalo perché i 40 anni li faceva la scimietta amica te era lei che stava compiendo gli anni e ha voluto il regalo ma voi credete ancora di poter gestirvi da soli non siete voi che vi gestite è un pochino più importante il suo cinturino in cauciu è comodissimo è nulla orologio che mi fa godere parecchio godere parecchio poi passiamo a Omega bello questo top Omega C Master 300 versione Nekton Edition che va a sancire la partnership tra Omega e Nekton che è questa fondazione che si occupa della salvaguardia degli oceani motivo per cui sul fondello chiuso è rappresentato il sommergibile della Nekton sai che mi piace questo mi piace forse più del mio con la ghiera oddio la mia c'è la ghiera in ceramica è lucida spacca proprio ti da quel senso di pregio fondello trasparente questo qua è chiuso forse è meglio questo rispetto al mio guarda un po' cosa ti dico quasi quasi forse ci vogliono tutte e due e in collezione ci vorrebbero tutte e due ci vorrebbero dai zitta anche lui in origine aveva il suo cinturino in cauciu ma lo trovavo secondo me sempre un pochettino piccolo non proporzionato e nulla ho acquistato il bracciale Omega sicuramente non te lo regala Omega ma anche qui acquistato in sportività ed eleganza bello adesso passiamo a un altro orologio anche questo orologio elegante che bello questo guarda lì sottilissimo fondello a vista questo qua io l'ho sempre tenuto sono anni che lo tengo sott'occhio sui portali di vendita usati perché non c'è più un produzione no è sottile il calibro Zenith Elite è veramente un bello orologio non ho mai avuto il coraggio di affondare il colpo e poi li vedo in giro eccolo qua che bello guarda viste com'è sottile orologio che indosso poco più che altro perché lo considero il più delicato della collezione quindi va salvaguardato sottile non si sente al polso e con una camicia indossando camicia e questo orologio diciamo che il connubio è quello perfetto ultimo orologio questo orologio è passato anche tra le tue sapienti mani questo Breitling Avenger versione Night Mission quadrante verde in titanio anche questo grande una puntata con il buon Giacomo era tra i secondi polsi proposti io l'avevo già prenotato prima di quella di quell'episodio tutto questo lo trovo un bel bestione diametro cassa 45 e l'ho maltratto a dovere e lo porto ovunque lo trovo super sportivo e anche leggero anche per lui ho sostituito il suo originale cintuino in pelle verde con questo cintuino Breitling e il risultato anche per me è splendido. bravo basta questa per ora è la mia collezione vedremo poi col futuro dove la mia scimmia e curiosità mi porterà ma c'è continua così grazie rock grazie a te rock 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 ti do un bel lotto perché sono tutti orologi degni di nota perché si passa dagli orologi moderni nuovi al neo vintage il neo vintage perché lo zenith elite lo zenith elite dei primi anni 2000 sicuramente sotto il 2000 non credo vada il 99 no primi anni 2000 orologi bestioni come l'ultimo che abbiamo visto oppure l'heritage della Breitling da 46 mm no super ocean tutti orologi belli belli tanti Breitling ai tre Breitling come minimo se non mi ricordo il Cronomat vintage e poi questi altri due qua moderne bravo 8 te lo meriti una bella collezione e poi c'è anche il giusto mood ora quello zenith elite lì dici che lo usi poco perché lo devi preservare ti capisco perché è la stessa cosa che mi succede a me quando devo decidere di indossare il mio omega de vil con il bracciale armadillo che è tutto lucidissimo no ci penso un pochino perché insomma è tenuto cioè nuovo praticamente l'ho preso come fondo di magazzino quindi il bracciale lucido perfetto come fosse nuovo e ho delle remore però bisogna anche togliersile queste remore bisogna a un certo punto non certo andarci al mare o a fare l'escursione in montagna ma vanno utilizzati questi orologi qua no devo trovare anche l'occasione giusta però anche te cerca di utilizzarlo d'inverno no gli orologi si coprono con il polsino della camicia di un maglione quindi sono più protetti e c'è più possibilità secondo me poi quando sei al tavolo magari tiri sulla manica fai il gesto anzi lo fai fare alla scimmietta lei si allunga la zampetta tira sulla manica e l'orologio ti mette in mostra e allora ti cade l'occhio a te e cade l'occhio anche a lei tutti e due ammirate perché spesso noi ammiriamo l'orologio senza cercare l'ora perché non ci interessa sapere l'ora in quel momento però ci interessa ammirare come mi sta al polso questo orologio ogni tanto come mi sta ma sta bene ma gli altri lo vedono ma lo vedono che è bello capito va bene dai ragazzi bando ai discorsi inutili e le stupidaggini delle quali io sono campione mondiale e vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video e il presentatore e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao